Anche oggi ho un messaggio da mandare a Babbo Natale. Speriamo che li riceva tutti. Giorno 18 dicembre, guardate quanti pochi giorni mancano al 24. Mickey Mouse ci comunica che mancano invece 7 giorni al 25. Giorno 18 dicembre del calendario dell'avvento di Essence. Vediamo che cosa troviamo dentro. Un burro di cacao. Beh, anche questo serve sempre. Giorno 18 dicembre del calendario dell'avvento di Look Fantastic. Vediamo cosa c'è. Neal's Yard. Una crema per le mani, 50 ml. Wow. Eccola qui. Made in England. Intimissimi. Ho intenzione di entrare per provare il vestito di Diletta Leotta, quello della pubblicità che fa lei al Intimissimi Uomo, che è un tubino. Vediamo. Il tubino grigio o argento o nero della pubblicità di Intimissimi. Vedete lei che lo indossa con una cintura però. Questo è il vestito di Diletta Leotta, però è nero. Come vi sembra? Un po' aderente, però non troppo. È un po' trasparente. C'è anche grigio. Allora, avete visto? Come vi sembra? Non sono brutti. È un po' lunghino per i miei gusti, però vabbè, non sta bene neanche corto un modello del genere. E praticamente è un po' trasparente, come avete visto, è aderente, però fino a un certo punto, perché se avevo la XS da provare sarebbe stata meglio come taglia. E poi lei lo indossa con una cintura in vita, altrimenti sta in quella zona, fa le pieghe. Ecco, queste sono le cose. Per quanto riguarda la trasparenza, sarebbe l'ideale indossare un paio di falze nere o un body nero, o per chi magari non si sente a suo agio, una bella pancerina. Vabbè, comunque per ora non l'ho acquistato, ci devo pensare un attimo. Voi cosa ne pensate? Vi piace? Lo indossereste su di voi oppure no? Fatemi sapere. Ci vediamo molto presto con un altro vlog. Basta, ciao. Anzi, domani. Ciao.